Letteralmente, burnout significa esaurimento, crollo, dovuto a una condizione di forte stress derivante da un contesto lavorativo che determina un logorio psicofisico ed emotivo nell'individuo. Inizialmente associata alle professioni sanitarie e assistenziali, la sindrome del burnout è oggi estesa a qualsiasi contesto lavorativo. E proprio di burnout nelle associazioni di volontariato in ambito socio-sanitario si parlerà nel convegno in programma venerdì 24 gennaio alle ore 17 al Caffè Letterario di Pescara, organizzato dall'Associazione Alda e Sergio, presieduta da Massimo Parenti. Leggendo l'ultimo libro di Ankovic, ne vale sempre la pena, mi sono dovuto soffermare su alcune righe che ti fanno capire che il burnout non è un qualcosa che sta al di fuori della vita normale. E' un qualche cosa che prende il volontariato, prende il volontario, prende gli infermieri, le maestre della scuola in ospedale, prende un ampio raggio di quella che è la vita sociale. Io ero fermo all'empatia, ma l'empatia a quanto pare ha uno sviluppo ben diverso e oggi dobbiamo affrontare questo argomento che purtroppo può diventare pesante perché può trasformarsi anche in malattie. Perché chi sta a fianco dei bambini per dargli una mano deve avere anche una certa tranquillità. All'evento, organizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, prenderanno parte esperti del settore, tra cui Momcilo Iankovic, pediatra ed ematologo, membro del Comitato di Bioetica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Come si fa a non lasciarsi travolgere dalle emozioni? Come si fa a non cadere in questo stato depressivo del burnout? C'è una soluzione? Ognuno di noi è fatto in una certa maniera, ognuno di noi reagisce in un certo modo. Io ho avuto l'esempio, sempre a causa del buon Iankovic con queste sue righe, Io sono tornato indietro di vent'anni fa quando mio figlio fu colpito dalla leucemia e mi ricordo che io in quel periodo avevo cinque facce diverse, cinque momenti diversi della vita che affrontavi in modalità completamente diverse. E noi incorremmo che queste persone che partecipano a questo incontro, a questa tavola rotonda, possono avere un qualcosa di ritorno, ma nello stesso tempo dare con dei loro quesiti un aiuto in più per capire meglio quella che è la situazione.